Grazie I 16 anni vissuti in mezzo a voi sono stata una gioia. Direi ogni domenica è stata per me una festa. La celebrazione dell'Eucharistia ha riempito sempre il mio cuore. Non posso che dire grazie al Signore, alla mia comunità, ai sacerdoti che mi hanno seguito con tanto affetto, con tanta stima. Io non ho parole per esprimere i sentimenti che sto provando. Tanta commozione sento nel dover lasciare questa città, questa chiesa che ha mezzaventi. Ho ammirato sempre la vostra presenza e la vostra figlia. Nelle celebrazioni sempre così colpe di persone che con fede si appostavano all'Eucharistia e che poi mi salutavano una a una. Dovrei entrare nelle vostre case per saggiare quelli che sono andati. Voi portate il mio saluto, il mio ricordo, il mio affetto. Vi chiedo di riflettere il mio saluto, come io farò tu, non potrò dimenticare. Questa chiesa la fate l'enese. Siete ancora, anzi, direi, voi portate vivi la grande tradizione. Siete rimasti sempre fedeli a quella aggiornando secondo i tempi. Forse vi aspettano dei tempi ancora più grandi. Siate fedeli, fedeli a questa chiesa che ci unisce, che forma di noi una grande famiglia di credenti, di cristiani. Non vergogniamoci mai di questo nome che è la nostra gloria. A tutti il mio saluto.